Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo alla nutella e nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 7 ore di raffreddamento in congelatore. Gli ingredienti sono panna zuccherata da montare, nutella, latte condensato, nocciole intere tostate, biscotti secchi e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla. Versiamo la panna. Vi consigliamo di riporre la panna 45 minuti in congelatore prima di montarla. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è perfettamente montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Mettiamo adesso la nutella ed amalgamiamo delicatamente. Aggiungiamo il latte condensato e continuiamo ad amalgamare. Una volta che abbiamo ben amalgamato il composto, abbiamo foderato con pellicola trasparente uno stampo da bloom cake. Adesso metteremo metà composto all'interno. livelliamo bene. Mettiamo un po' di nocciole. Mettiamo un po' di nocciole. Mettiamo il resto del composto. livelliamo bene. livelliamo bene. Mettiamo adesso i biscotti. Chiudere con la pellicola. riporre in congelatore per almeno 7 ore. trascorso il tempo abbiamo ripreso il semifreddo dal congelatore. adesso togliamo la pellicola trasparente. lo andremo a capovolgere in un piatto e lo decoreremo con nutella e granella di nocciole. semifreddo alla nutella e nocciole. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. 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 grazie a tutti.